sananda quando il velo crolla di james mcconnell 20 settembre 2023 sono sananda vengo per essere con voi in questo momento in questi continui cambiamenti epocali che stanno accadendo qui sul pianeta e all'interno di tutti voi perché tutti voi state attraversando grandi cambiamenti all'interno del vostro corpo e per ora non siete pienamente consapevoli dei cambiamenti che stanno accadendo si stanno verificando cambiamenti nella vostra struttura molecolare persino nella vostra struttura cellulare poiché il sistema di carbonio che era il vostro corpo fisico si sta trasformando in una struttura di luce cristallina quindi sappiatelo sappiate che tutto sta cambiando sia all'interno che all'esterno così dentro così fuori così sopra così sotto e voi state vivendo un cambiamento miracoloso naturalmente non si tratta ancora del cambiamento per l'ascensione ma come avete sentito molte volte è tutto un processo un processo che state attraversando come la vecchia programmazione la programmazione che avete avuto per gran parte di questa vita e di molte vite precedenti quella programmazione sta iniziando a svanire sempre di più per essere sostituita da una nuova programmazione la vostra nuova programmazione la vostra nuova programmazione creativa che state portando dentro di voi perché voi siete molto di più di quello che siete stati programmati a credere quindi tutti voi ora continuate ad aver fiducia abbiate fiducia in voi stessi confidate nel grande piano che è in atto e che porterà a un cambiamento epocale mentre la vecchia programmazione comincia sempre più a svanire il vecchio sistema tridimensionale la matrice se volete svanisce sempre di più mentre il velo si abbatte su tutti coloro che sono ancora per ora non credenti ancora profondamente addormentati nel loro sonno ma grazie a tutti voi i risvegliati quelli che sono venuti qui con lo scopo di risvegliare l'umanità grazie a tutti voi ci sono quelli che devono ancora risvegliarsi e si risveglieranno e proprio come io yeshua ho vagato sulla terra e ho svolto la mia missione per porre fine per quanto possibile alla vecchia programmazione ma come sapete molti erano addormentati e non hanno ascoltato il mio messaggio il mio messaggio d'amore il mio messaggio di fede il mio messaggio del potere all'interno di ogni individuo e del potere in ogni individuo che porta al potere della coscienza cristica nella coscienza collettiva dell'uomo ma per molti aspetti non ho portato a termine la mia missione voi d'altro canto state per completare la vostra missione la vostra missione di riportare il potere e la sovranità all'interno di ogni individuo e nella coscienza collettiva dell'uomo il potere dentro ognuno di voi mentre la frequenza vibrazionale aumenta dentro di voi e fuori di voi abbattendo la vecchia matrice e sostituendola con la nuova matrice vibrazionale superiore se volete la coscienza e la vibrazione sono tutto e sono tutte le cose sono sananda e vi lascio ora in pace amore e unità che continuate a vibrare sempre più alto dentro di voi essendo consapevoli di ciò che sta accadendo ma senza attaccarvi adesso perché l'attaccamento vi trattiene dal processo di ascensione pace amore siano con tutti voi traduzione e voce marina